Il DI Lunga Belga IV si aggiunge alla line-up di Unite with Tomorrowland, l'evento che per la prima volta arriva in Italia il prossimo 28 luglio al Parco di Monza. Il suo nome e l'italiano Mike Dame si aggiungono al produttore francese Klingande nell'appuntamento satellite del Tomorrowland, il festival in Belgio che con numeri come le 400.000 presenze dell'edizione 2017, con i suoi palchi mastodontici e le produzioni pirotecniche, è diventato centrale nella scena globale densa ed elettronica. Già è idlinere ospite fisso di Tomorrowland e delle edizioni internazionali di Unite with Tomorrowland, IV ha un legame particolare con la manifestazione, come racconta l'Ansa, per me Tomorrowland è speciale, in qualche modo l'ho visto crescere, ormai è quasi diventata la cosa più celebre del Belgio. Da qualche anno suono anche negli eventi Unite dove ho trovato le stesse produzioni, la stessa atmosfera. Tomorrowland e la stessa carriera di IV si collocano in una forte tradizione dance belga, i successi olandesi e belgi in questo campo derivano prima di tutto da una lunga storia partita almeno 20 anni fa nei club, quando iniziai allora, a 16 anni, i club erano tanti e vivaci. Ora quella cultura si è spostata più sugli eventi all'aperto. Penso che i due fenomeni potrebbero andare di pari passo, ma non è quello che succede, forse i ragazzi preferiscono risparmiare per vedere questi grandi eventi, piuttosto che andare ogni fine settimana in un locale come facevamo noi. Ma non è necessariamente peggio, è semplicemente un'evoluzione, che tra le altre cose ha permesso di fiorire a tanti generi più di nicchia, dalla tape house alla deep house, ormai entrati nei suoni del pop. Proprio tra pop e dance si collocano recenti produzioni di IV come il singolo Beautiful Tonight, mentre l'ultimo uscito, Magnolia, lo riporta ad atmosfere da clubbing. Non ho una preferenza tra i due approcci, mi piace creare tracce per la radio o più adatte per i live, come Magnolia, dal vivo mescolo le cose per trasmettere energia e divertire, mi perdo nel flusso e mi diverto a suonare cose ancora non pubblicate, e lo farò certamente anche in Italia. IV si esibirà anche il 27 luglio al Jaguar Florence Club di Firenze.